Hai un orologio? No. Abbiamo degli orologi in condivisione. Se il tuo avversario non ce l'ha, torna al bancone e te ne diamo uno. Le partite cominciano fra 20 minuti. Il tuo punteggio? Non ho un punteggio. Hai mai partecipato a un torneo prima d'ora? No. E sei sicura di farlo? Sicura. Non c'è una categoria per le donne. Vai fra i principianti? No, io sono brava. Non importa. I giocatori senza punteggio vanno fra i principianti insieme a chi è sotto i 1600 punti. Quanto vincono i principianti? 20. E l'altra categoria? Il primo premio dell'open è di 100. Vado contro le regole se partecipo all'open. Non esattamente, ma... Iscrivetevi all'open. Ci sono tre giocatori con un punteggio superiore ai 1800. E anche Belty che forse partecipa. Ti mangeranno a colazione. Harmon.